ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video molto giocattoloso diciamo sono i video che più mi piacciono perché vado a sperimentare nuovi giocattoli che un po escono da quello che diciamo l'ambito lavorativo mi danno molte soddisfazioni e divertimento questo perché perché oggi parliamo di un laser di una nuova recensione di un cnc laser introduzione veloce che cos'è un laser cnc è una struttura diciamo quadrata in alluminio normalmente con dei carrelli che movimentano su due assi quindi movimento bidimensionale non va anche su e giù una torretta con montato sopra un vero laser quindi un fascio laser che viene sparato su un pezzo a cosa serve serve sostanzialmente a incidere dei materiali o a tagliarli ci sono varie tipologie di laser cambiano le potenze cambia la focale insomma tante differenze in base al tipo di lavorazione che si vuole fare ci sono quelli più diciamo da casa hobbistici quelli più professionali ci sono quelli più complicati quelli più semplici oggi mi sento di potervi garantire che vi faccio vedere un laser cnc diciamo non entry level come qualità perché fatto bene va molto bene ma entry level nel senso per i principianti essendo macchinari che occupano un certo spazio per motivi di imballaggio non vengono spediti già interi ma deve essere effettuata la parte terminale dell'assemblaggio in questo caso è facilissimo perché sono veramente quattro viti ho fatto già un altro video vi avevo fatto vedere un laser che andavano montate le cinghie tirate qui è tutto semplificato perché i carrelli con i movimenti arrivano già pronti già in tiro già regolati la finite di montare collegate e iniziate a lavorare questo laser oltre a essere semplice da montare è relativamente semplice da usare perché ha una procedura di altezza perché il laser va diciamo regolato in altezza in base a quanto spazio occupa sul piano l'oggetto da lavorare procedura molto semplice sistema molto efficace dopo vi farò vedere per chi è adatto proprio per chi vuole cominciare e soprattutto per chi vuole una via di mezzo perché questo cnc aufero monta un laser codice lu24 sf che si colloca esattamente a metà strada tra un laser più per l'incisione e un laser diciamo proiettato per il taglio riusciamo incidere bene quasi tutti i materiali riusciamo a tagliare sì ma spessori non troppo importanti però quello che taglia vedrete che lo taglia bene ok vi direte ma che cavolo me ne faccio di un laser a casa allora prima di tutto premessa importante il laser cnc non si può usare a casa va usato in un ambiente che sia esterno areato magari un garage come il mio che da sull'aperto perché il laser cosa fa brucia quindi se brucia legno vi fa una fumera di legno bruciato se brucia la plastica addirittura diventa proprio non salutare da respirare eccetera quindi non è come la stampa 3d che potete trovare un angolino in cameretta e la mettete lì dovete avere un locale apposito e poi ci potete fare un sacco di cose sul sito stesso vi fa vedere tutto quello che potete fare come taglio diciamo creativo di legno potete fare incisioni quindi dopo aver tagliato un pezzo potete disegnarlo viceversa e creare un sacco di cose interessanti si può incidere il metallo la pelle il taglio dell'acrilico e insomma anche con la carta potete sbizzarrivi a creare qualsiasi cosa per persone che si dilettano in questa tipologia di lavori per professionisti che magari fanno gadget e li vendono ma anche per un elettricista che si vuole incidere il nome dell'azienda sull'attrezzatura in plastica o sul metallo dei propri attrezzi vi ho spoilerato un po diciamo la fine del video vi do qualche dato questo laser è da 5,5 watt che è una buona potenza ea 20 watt elettrici attenzione non confondete i watt elettrici con i watt effettivi di potenza di incisione e taglio perché sono due cose separate montano una scheda madre 32 bit di nona generazione si muove fino a 10.000 mm al minuto addirittura potrebbe arrivare fino a 15.000 questo grazie alla tecnologia della mcu e soprattutto al fatto che questa cnc è stata veramente ribassata a un baricentro bassissimo non ha zone diciamo proiettate in altro che provocherebbero vibrazioni movimenti instabilità ma è tutta molto bassa è stato ottenuto tutto in giù per migliorare appunto il movimento meccanico dovrebbe tagliare legno fino a 12 mm vi dico già che non sono riuscito a tagliare un multistrato da 10 secondo me va bene fino al mezzo centimetro 6 mm perché poi andando a fare troppi tagli è vero che prima o poi lo taglia ma continuando a passare il laser dentro la fessura continua a bruciarsi non viene un risultato ottimale come vi dicevo prima è una via di mezzo taglia spessori non troppo importanti i numeri magari non mi interessano così tanto mi interessa vederla quindi spacchettamento ma prima di andare avanti vi ricordo di scrivere al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su instagram massidattoli perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale eccolo qui laser aufero laser 2 motherboard di nuova generazione alta velocità di incisione alta definizione come scala di grigio alta precisione laser di terza generazione area di lavoro 390 per 390 prima protezione certificato di conformità altro certificato dichiarazione di conformità manuale utente tutto in inglese ma c'è anche l'italiano con il qr code da scansionare per avere accesso diretto il manuale solo in italiano dunque questo è quello che troveremo all'interno della confezione tutto molto molto semplificato per l'installazione per le regolazioni eccetera abbiamo un profilo con la mainboard il profilo posteriore che è privo di qualsiasi accessorio come profili sono molto molto curati perché non sono i classici quadrati ma sono con l'angolo a 90 le due sedi per inserire gli ancoraggi e un profilo laterale stondato tutto in alluminio finitura satinata opaco qui ci sono le sedi per le viti con l'incavo che rimarranno pressoché a filo dettagli curatissimi potevano benissimo farlo in modo più grossolano ma così non è la mainboard montata sul profilo anteriore con l'ingresso per i 24 volt connessione al pc e abbiamo anche questa porta rj 11 offline controller tasto di accensione che va premuto 5 secondi tasto reset questa è la mainboard rimane chiusa diciamo solo davanti sui dati e a vista un cavo corto un cavo lungo già in uscita con tutti i connettori segnati con anche la terra alimentatore che è un 24 volt 2 ampere cavo usb per la connessione al pc un altro cavetto a tre fini qui poi abbiamo i due laterali vedete con già il piedistallo montato con il gommino già applicato i motori e soprattutto la cinghia già montata cinghie quindi già montate già in tensione carrelli che non hanno nessun tipo di gioco quindi tutto già pronto per essere utilizzato qui c'è anche il pomello per regolare la tensione della cinghia che al momento è ben tesa quindi abbiamo profilo destro profilo sinistro e l'asse del carrello porta laser con già la guida montata anche in questo caso la cinghia già montata carrello che non ha gioco addirittura ci sono le sellette per i cablaggi già montate e non adesive ma con due vitine siamo ad un livello molto 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 alto anche qui movimento perfetto non a gioco sarebbe quasi superfluo avere il manuale di installazione e montaggio ma provo comunque a scaricarlo per farvi vedere come rimane conclude la dotazione un paio di occhiali per proteggere la vista mi raccomando molto importante un pennellino per la pulizia le poche viti che servono per il montaggio due brugole un pomellino una chiave per serrare i dadi qualche fascetta qualche pezzo di materiale campione per fare le prove e poi il laser il nostro laser aufero con potenza luminosa massima da 5500 mw laser in classe 4 tutte le raccomandazioni del caso nella parte superiore monta la ventola di raffreddamento l'unico connettore che dovremmo attaccare il supporto per la guida e la protezione inferiore vedete a questi quattro magneti che vanno ad attaccarsi su questi grani messi apposta per agganciare in questo modo la protezione il modello esatto del laser è lu2-4-sf 24 volt 21 j08 manuale in italiano che viene scaricato senza problemi vi lascio il link in descrizione per avere accesso diretto al manuale ci sono tutte le fasi passo passo per montarla tutti i riferimenti che viti usare come collegare fili in terra è semplicissimo e c'è anche un video dedicato del quale vi lascio il link in descrizione io ora la monto in modo veloce ve la faccio vedere a velocità super fotonica per non dilungarmi troppo nel video durante il montaggio ho notato questo dettaglio quando arriverete a montare il laser sul suo supporto ci sarà un'unica vite da mettere qua col pomello per bloccarlo ma la finezza è che all'interno c'è una lamella d'acciaio tenuta da questo punto che andrà a premere diciamo aumentando la superficie di contatto per il fermo per evitare che sia la vite diretta ad andare sul profilo di fissaggio ok montaggio praticamente terminato avete visto che sono veramente due viti per angolo per assemblarla l'unica cosa che non mi ha fatto impazzire sono le viti corte laterali e la qualità della brugola in dotazione che si è subito rovinata poi abbiamo questi cavi che vengono fissati con le fascette sulle sedi tutto perfetto ma nel momento in cui colleghiamo il cavo del laser bisogna mettere il punto di terra su una di queste viti che nella realtà dei fatti poi dovete tirare piano piano perché altrimenti si si sfonda tutto diciamo il punto di fissaggio insieme alla vite bisogna fare un attimino tensione ma in questo modo è terminata si muove correttamente senza gioco il cavo che è inguainato multifilo rimane bello morbido qui sul lato il cavo del laser si muove senza problemi entrambe le direzioni rimane fascettato va in giù tutto perfetto c'è poi una parte di manuale che è quella riguardante la regolazione dell'altezza del laser che non viene scaricata insieme al pdf nella parte in italiano ma è quella allegata con il laser in pratica funziona in questo modo noi dobbiamo mettere l'oggetto da incidere questo distanziale in dotazione che va in appoggio su questa parte rossa quella magnetica che si attacca sotto se noi dobbiamo incidere questo pezzo di legno dobbiamo mettere il pezzo di legno il distanziale mandare giù il laser e chiuderlo questa è la regolazione definitiva dunque questi cnc una volta assemblati per metterli in funzione per usarli la procedura è molto semplice vanno collegati via usb a un computer per forza sul sito che comunque vi lascio il link in descrizione trovate tutte le procedure i tutorial le spiegazioni per installare tutto quanto ma in buona sostanza bisogna usare un software che prende diciamo il lavoro l'immagine il vettoriale e lo invia al cnc sostanzialmente ce ne sono due qui sulla pagina del produttore vedete che vi dà già le informazioni sui due software che potete usare con i link per scaricarli grb è molto semplice da usare non ha grossissime funzioni va benissimo ed è gratis poi c'è light burn che è un po più professionale ma vi danno una demo di 30 giorni poi diventa a pagamento useremo il primo quello free non vi faccio vedere come si installa come si mette il driver avevo fatto una sezione molto dettagliata nel precedente video dell'altro cnc laser che potete andare a guardarvi quindi una volta assemblata collegata apriamo il software fondamentalmente si tratta di importare immagini che vengono poi rielaborate o progetti già di file vettoriali ma online se iniziate a cercare progetti laser cnc si apre un mondo diciamo parallelo alla stampa 3d trovate veramente di tutto la cosa se vogliamo negativa è che nel taglio laser cnc ho trovato molti siti che ti fanno scaricare i progetti a pagamento non cifre astronomiche però difficile trovare progetti interessanti completamente gratis o se no ve li dovete disegnare voi adesso faccio un po di prove inizio a fare qualche taglio qualche incisione vediamo cosa riesce a fare e poi traiamo le conclusioni ok poi come dico sempre con la stesso laser con lo stesso oggetto si possono ottenere risultati ampiamente differenti in base a come lo si usa ad esempio questa è una foto importata direttamente com'era nel jpeg originale questa è la stessa foto processata tramite software o siti gratuiti che svolgono questo tipo di servizio ciao 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 Cioè notate la precisione e la pulizia del taglio Guardate che spettacolo di pulizia Non so se riesco a farlo apprezzare Bello 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 È andata a finire leggermente sotto ovviamente Ma solo scaldando leggermente Incidendo diciamo la parte del legno Quello che va messo sempre per non rovinare il piano Però taglio pulitissimo Bruciato proprio appena 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 Più sul retro ma va bene E pur essendo molto nel piccolo Guardate che filo di legno che è riuscito a lasciare qua Spero di riuscire a farvelo apprezzare nel video Ma veramente veramente precisa E ho usato le impostazioni Che trovate nel file Excel Che vi lascio il link in descrizione Con tutte le impostazioni per i vari materiali Ad esempio ho preso legno multistrato da 1.6 mm Che sono esattamente questi campioni che mi hanno mandato Con le impostazioni dichiarate da loro Sono riuscito a ottenere questo primo taglio di prova Insomma mi sono divertito a bruciacchiare tutto quello che mi capitava La cosa che più quando faccio vedere fa effetto wow E la cover del telefono in TPU Che è venuta benissimo Sembra proprio un effetto basso rilievo Pazzesco Una cosa che ad esempio ho scoperto Che però il TPU appena l'avete inciso con laser Bisogna aspettare qualche oretta Finché si stabilizzi e diventi solido Tutte scoperte che farete man mano Anche l'incisione sulla cintura Magari provate prima a farla in un angolo Insomma con queste apparecchiature Non avendo nessuno di noi O almeno chi si approccia a questo mondo Diciamo per la prima volta Un'esperienza tale da sapere tutti i valori a memoria Semplicemente quando usate il programma Si tratta di regolare Il tipo di laser Se deve lavorare in mondo dinamico o fisso La velocità di avanzamento E la potenza Oltre al numero di passaggi in caso di taglio Però è tutta una questione di conoscere i materiali Loro ti danno un Excel Ti danno una tabella con dei valori Ma tante volte non sono quelli Quindi se dovete incidere Magari provate prima su un pezzo che si può buttare Se dovete tagliare Magari partite da un quadrato in un angolo Per capire se va bene È tutta una questione di impratichirsi Passatemi il termine Sui materiali e sulle prestazioni del proprio dispositivo Però potete fare un sacco di cose belle Veniamo alla sostanza Quanto costa Dove la trovate Tutto quanto La comprate direttamente sul sito Sinismall Che ha un magazzino EU Quindi in Europa Spedizioni velocissime Pagate direttamente con Paypal Con tutte le garanzie del caso Spedizione gratis I prezzi Dunque Il modello LU2 Quindi quello Diciamo solo per incisioni Ma più precise Lo portate a casa con 256 euro Il modello in prova è LU2 4SF Diciamo via di mezzo Per fare un po' di tutto Che costa 351 euro Esattamente come il modello LF Che sarebbe per tagli più importanti Quindi 350 euro per un laser Che come vi ho fatto vedere È praticamente già montato Basta finire di mettere 4 viti Già regolato Non avete problemi Potete subito iniziare a sbizzarrivi Con tutte le vostre idee e progetti Vedrò se riuscirò a ottenere un coupon sconto Nel caso lo trovate nella descrizione del video Io spero che il video vi sia piaciuto Ho cercato di non dilungarmi tanto Ma volevo farvela vedere bene Prodotto di qualità Seguitemi sul canale Telegram Perché a volte metto anche un file Di tutti gli oggetti Che per esubero metto in vendita Diciamo a prezzi molto convenienti Quindi canale Telegram Il link rimassi dattoli Guardate nel canale tutte le varie playlist Perché magari potete trovare qualche categoria O qualche video che vi interessa Soprattutto se non mi conoscete Vi chiedo quindi un bel like Ma molto più importante Iscrivetevi al canale Perché mi dareste un grosso aiuto E non vi costa nulla Io vi ringrazio Ci vediamo al prossimo video O alla prossima diretta del giovedì sera Qualsiasi domanda Non esitate a chiedere nei commenti O mandatemi un email all'assistenza Ciao da Massi Dattoli